Attenzione, come è stato? Un saluto a tutti, ben ritrovati, invito come sempre a commentare numerosi qui sotto, lasciare un bel like e iscrivervi da questa parte, mi raccomando, fatelo numerosissimi. Attenzione, bomba di Milan, direi di mercato, comunque di panchina, perché come sapete, insomma, la situazione legata a Pioli ha una scadenza, che è 2025 come contratto, ma è al più tardi la prossima estate, visto che, insomma, i segnali non sono stati esattamente convincenti, detto che oggi comunque il Milan ha la possibilità di fare una partita importante contro il Borussia Dortmund e provare a passare anche il girone, anche se oggi vince, comunque servirà un punto nell'ultima contro il Newcastle. Viceversa, oggi potrebbe essere invece decisiva se il Milan perde. Detto questo, comunque il rapporto, la capacità di incidere sui giocatori sembra abbastanza arrivata alla fine, ognuno ha proprio parere. Milan, che da radiomercato, risulta, stia seguendo con molta attenzione Tiago Motta, che sarebbe in cima alla lista dei desideri per la prossima stagione, tanto è che alcuni uomini di Milan ieri erano a vedere la partita del Bologna, che ha vinto 2-0 col Torino, e ovviamente non possono essere che arrivate relazioni positive, detto che basta guardare la classifica. Il Bologna è sesto, insomma, quinto, pari punti con la Roma, e ha appena 5 punti in meno del Milan, con una differenza di rosa, obiettivamente clamorosa. Il Bologna ha fatto 5 vittorie, 2 sconfitte e 6 pareggi, gol realizzati 15 col subiti 10. Il Milan ha subito 4 reti in più, ne ha realizzate 6 in più, però con un potenziale davvero molto diverso. Un allenatore che fa giocare molto bene la squadra, è una squadra che sembra molto organizzata, l'organizzazione credo che sia la caratteristica più bella, più lampante, più evidente delle sue squadre, è chiaro che lui vuole fare il salto di qualità, e sono sicuro che di fronte a una proposta del Milan non avrebbe problemi ad accettarla, nonostante un passato all'Inter importante. Per me è un gran, bel allenatore, e sicuramente tra i migliori a livello di allenatori emergenti, se non il migliore. Che ne pensate? Vi piacerebbe come idea per la prossima stagione? Scrivetelo qui sotto, attenzione perché il Milan pensa davvero a Tiago Motta, non è l'unica candidatura, ma è una candidatura molto forte in questo momento per la prossima stagione. Lasciate un like e commentate. Ciao!